Ecco qui, quindes di agosto, c'è la cassola, come la cassola? Sì, sì, la propria chi? Mangiare la cassola al giorno di faraù, lei come beve al mese di maggio e il must. Come scegare i muñacchi a Sant'Ambres, o andare a Ticastegno e trovare i rius. Per un brianzo, di questo che è un spettacolo, ma l'assunta ne fa altro dei miracoli. Quella di congelare è un'invenzione che ti dà questa soddisfazione. Però la regola di Ticaproduzione le succe e melun alla sua stagione. Proverbio che abbiamo citato e citeremo anche altre volte. in tanta buona assunta, buon ferragosto a tutti. Ciao, ciao!